L'argomento è sul piatto da circa 30 anni e ora per il prolungamento della tangenziale di Viale Aldomoro fino all'intersezione con strada a Postumi è sembra arrivata la svolta storica. La Giunta ha dato infatti il suo assenso alla soluzione a nord proposta dalla Sussetautostrada Brescia-Padua che allenterà così la morsa del traffico sul quadrante nord-est della città con una riduzione di auto e tir pari al 30%. Riteniamo che sia un'opera fondamentale e strategica per il territorio che migliorerà la qualità della vita dei cittadini dovremo chiaramente condividere con loro la progettazione definitiva per la quale si sono presi un anno di tempo. Due chilometri che correranno lungo la campagna più un altro per la bretella di collegamento con il casello di Vicenza Nord interamente finanziati con un cronoprogramma già stilato. C'è una data di inizio che è il 2024, una data di fine entro la fine del 2026. Questi sono il cronoprogramma di massimo ricevuto dalla società A4 quindi sempre con beneficio di inventario però è stato scritto questo timing e è importante che l'opera è interamente coperta da Sussetautostrade e quindi è un'occasione che non possiamo perdere. Parliamo di un investimento di circa 25 milioni di euro. Il tracciato è già deciso a quanto pare, niente più curve fino al rondò dell'Uva il percorso dritto con due viadotti a scavalco, uno sulla ferrovia e uno su strada Postumia dopo l'intersezione con strada Nicolosi. Le ipotesi avanzate sono duplici in realtà però quelle che sono accompagnate dai pareri degli enti e che sono sostenute dalla società Autostrade è quella che prevede il prolungamento a nord dritto lungo l'elettrodotto di Terna che sbuca poi attraverso una svolta verso la Postumia quindi verso direzione Treviso. E ora inizieranno anche i confronti con i comitati dei cittadini per discutere del progetto.